Ultimamente sentite dire spesso che il lavoro non va cercato ma va attirato. È indubbiamente vero che è il metodo migliore, ma c'è da dire che molti di noi in questo momento stanno cercando lavoro, lo stanno cercando in maniera attiva e quindi valgono anche le regole del gioco del passato, cioè mandare il CV in maniera attiva per una posizione aperta per un'azienda e quindi candidarsi. Oggi vi voglio dare tre spunti di come mettersi in mostra maggiormente rispetto alla posizione aperta. Un primo aspetto di base è avere un CV che attira l'attenzione. Quindi vi sconsiglio il classico formato europeo che è ormai obsoleto. Vi consiglio un CV in una pagina, sceglietevi un modello che non sia eccessivamente colorato e che poi magari porta confusione, che vi rappresenta e che mette in risalto le vostre caratteristiche personali e di esperienze lavorative precedenti. Un secondo aspetto invece può essere quello di contattare direttamente la persona responsabile della selezione in quell'azienda magari su LinkedIn. Sarà sicuramente un modo per mettersi in mostra e per far sì che quella persona vi consideri ancora di più. Il terzo consiglio, forse anche questo definito un pochino vecchio a scuola, ma proprio per questo potrebbe rimanere ancora più impresso a colui che vi selezionerà. Perché? Perché molto probabilmente non lo farà nessuno, cioè andare di persona presso l'azienda e lasciare alla reception di quell'azienda il CV indirezzato a chi fa il recruiting. Piccoli dettagli, ma che possono marcare una grande differenza rispetto al grande interesse che state mostrando verso la posizione aperta. E quindi a questo punto datevi da fare e candidatemi.